Brino, doppietta per te oggi ad Alba con la Piscina di Asia Riva al termine di una partita comunque, a parte i due gol decisamente positiva hai mandato in rete Messineo, cresce con il mister l'intesa tra voi due e questo è sicuramente importante per l'Albese Sì, Messineo si è integrato subito bene, quindi siamo contenti del suo arrivo e ci dà una mano perché è difficile, dobbiamo capire che è un campionato difficile quindi abbiamo bisogno di tutti quelli che possono dare una mano alla squadra e devo dire che si è integrato molto bene Oggi non era facile, gli avversari si sono chiusi molto bene, trovare spazi non era semplice, poi si è inventato questo pallone per Carmine che ha sbloccato la partita, da lì si è assistito ad un altro incontro avete un 3-0 netto che come diceva anche il mister sarebbe potuto essere più rotondo perché comunque ci sono state diverse occasioni darete comunque tre punti pesantissimi Sì, era importante iniziare bene l'anno perché la prima partita dopo la sosta è sempre insidiosa e noi dobbiamo capire che è difficile, è difficile se non sblocchiamo la partita è difficile perché troviamo avversari comunque quadrati che vengono ad Alba a fare comunque una partita importante perché appunto contro di noi ci mettono sempre qualcosa in più però se noi continuiamo così con questa voglia con questa voglia anche in allenamento di provare le cose penso e spero di poterci togliere delle soddisfazioni Albese campione d'inverno vuol dire poco però diciamo che la strada comunque è quella giusta per tornare in eccellenza subito Sì, sì, è il nostro obiettivo quindi non dobbiamo nasconderci era importante riniziare bene l'anno e quindi ci fa molto piacere però dobbiamo continuare a lavorare e sapere soprattutto che tutte le partite sono difficili Grazie